Prego, Mr. Schneider. Dopo che abbiamo fatto gli esercizi dobbiamo lavorare sui tessuti e prepararli per il miglioramento. Ricordatevi che abbiamo fatto il palming, abbiamo rilassato prima di fare gli esercizi. E adesso, dopo aver fatto questo, per essere sicuri che gli occhi non siano stanchi, dobbiamo lavorare sui tessuti per sapere che questi accettino gli esercizi che abbiamo fatto. Potete farlo anche a casa. Possiamo parlare ai tessuti. Ora, sdraiati. Più piega le ginocchia. Incominciamo con il palming. Stiro un po' il collo. Sto schierando nel collo. Faccio dei massaggi partendo dal naso, passando sotto l'occhio verso la tempia, partendo dalla parte sopra del naso verso la tempia. faccio pressione sul naso, muovo un pochino il naso da parte a parte. Sono molto delicato quando si tratta di lavorare nella zona vicino agli occhi, ma si può essere un po' più rudi sulla fronte. Posso muovere la testa in movimento circolare in tutte le due le direzioni. di nuovo massaggio intorno agli occhi. molto più sotto agli occhi, sulle guance, si può massaggiare di nuovo in modo un po' più forte. massaggio le sopracciglia. Tocco sempre gli occhi in modo molto, molto gentile. Posso ridurre la pressione se con una mano tocco i suoi occhi, con l'altra mano tocco i miei. E' quello che faccio. Quando tocchiamo qualcuno, i nostri esseri si connettono. Devo, facendo questo massaggio, si previene lo strizzare, lo sforzo, la tensione. So, for example, I want to move her like this, back and forth. Se la muovo in questo modo. Ok. And now lie in your stomach. La faccio girare. In fact lie on your knees, if you can. Vai sulle ginocchia. I tap on the vertebrae. Picchietto sulle vertebrae. Massaggio intorno alle vertebrae. Mi piace tantissimo massaggiare. Va benissimo per i bambini, ma anche per i grandi, gli adulti. questo particolare buco dove inizia il cuoio capelluto. Questo senti bene? Sì. Stai bene? Ti senti bene? Sì. Molto bene. Molto bene. Massaggio qua. Massaggio qua. Cerco di staccare la pelle del cuoio capelluto dalle ossa. Torno di nuovo verso il buco che è un po' più rilassato adesso. Da qua partono tutti i nervi e il sangue che poi deve andare nella zona della testa. In questo caso per lei aiuta a nutrire la retina e a mantenerla più forte. Now lie in your back. Torna sdraiata con la pancia in alto. di nuovo palmi. Massaggio la fronte. Massaggio la fronte. Massaggio la fronte. Massaggio la fronte. Ok. Grazie. Grazie. Benissimo. Abbiamo avuto una bella dimostrazione quindi nei nostri studi di come...